Siamo a Torino a conoscere una realtà che si chiama Coccole Pet, Flavio è il suo ideatore, un asilo per cani, un'idea un po' originale, come nasce l'idea di aprire un asilo per cani? E' nato un po' come dog sitter inizialmente, quindi eravamo dei dog sitter e da lì invece di tenerli per strada, di tenerli in giro abbiamo deciso di aprire un centro apposta dove possono stare al chiuso, dove possono stare insieme, dove possono giocare, dove vengono portati fuori e hanno la loro realtà qui. Iniziamo alle 8 con il taxi, andiamo a prendere alcuni cani, altri ce li portano già loro qui, quindi dalle 8 fino alle 19.30 c'è l'orario continuato, c'è chi entra, c'è chi esce, c'è chi rimane qua dalla mattina alla sera, li riportiamo poi a casa dopo le 18, generalmente inizia il giro poi di rientro. Stanno qui, giocano, li vengono portati fuori almeno tre volte al giorno, come minimo, dipende poi dall'orario un po' di entro e di uscita. Forse anche per loro è una cosa positiva non restare tutta la giornata da solo in casa nel caso in cui appunto i proprietari lavori. Sì, praticamente l'esigenza principale è quella, ci sono i gruppi insieme, dove tu puoi vedere dei cani da cucciolo ad adulti di 11 anni, come il nostro amico Lachi, che è cresciuto gli ultimi anni, l'ha fatto qua, quindi è un anno e mezzo, quasi due anni, due anni che è qua. Insomma lui inizialmente non andava d'accordo con gli altri maschi e poi piano piano si è abituato, anche perché questo ambiente può aiutare anche quello, insomma aiuta a socializzare anche proprio il cane che non va d'accordo. Ci sono quelli che sono difficili da convincere a far stare insieme agli altri, ci sono quelli che invece si lasciano tranquillamente andare e stare tranquilli insieme agli altri cani. Com'è lavorare con i cani tutto il giorno? Li sentite forse anche un po' vostri alla fine? Sono nostri, diventano nostri, siamo fortunati, insomma è il lavoro, dico sempre che è il lavoro più bello del mondo, non credo che ci sia un lavoro più bello, ecco stare con i cani è la cosa più bella che possa esserci in vita, ecco credo. Una passione che nasce da lontano perché anche tu hai cani? Sì sì certo, io ho cani da quando sono nato, i miei genitori sono nato, mi ricordo dove avevamo due pastori belga in casa, camera cucina, tre figli e due cani, se non ami cani non fai un lavoro del genere. Tra le altre cose in questo locale ci sono delle telecamere, a che cosa servono? Allora servono intanto per noi sicurezza interna così che anche se siamo da questa parte riusciamo a vederle dalla monitor ma poi principalmente le abbiamo messe per il cliente da casa, cioè per chi porta il cane può vederle dal nostro sito www.coccolepet.it, si può registrare al sito e dopodiché può accedere alle videocamere interne e quindi vedere il cane 24 ore su 24. Un'attività, un lavoro che è una gioia, che è un divertimento e che avrà un proseguio perché tra breve tra l'altro l'attività sarà incrementata con un altro punto? Sì assolutamente, con Maurizio stiamo aprendo un altro punto dove sarà più specifico per le pensioni ma assolutamente l'asilo sarà attivo tutti i giorni. Un lavoro impegnativo ma che si fa proprio con passione, immagino che anche tu abbia avuto cani. Certo, è chiaro, sono lavori che d'altronde devi un po' conoscere i cani però poi ti diverti, ci va competenza, che è chiaro che si acquisisce con gli anni. Abbiamo sentito parlare di Laki che è un po' il decano perché viene qua da tanto tempo e da più di un anno ed è lui un po' il protagonista di questa giornata. E siamo con Anna che è la sua proprietaria, come ti sei trovata a portare Laki qua durante le giornate? Allora, abitando qui in zona ho visto appunto quando ho aperto il negozio Flavio però ci ho pensato un attimino, ho detto no Laki non è cane da stare con gli altri. Invece in una settimana io dico sempre che gli ho consegnato un lupo e mi ha ridato un agnello. Questo è un paradiso, un paradiso per cani, noi siamo sereni mentre lavoriamo perché comunque sappiamo che sono ben accuditi e ce ne fossero altri Flavio. In estate vanno anche in piscina, è una cosa carinissima, fanno questi corsi così, li portano in piscina, loro si divertono, a volte vogliono entrare, a volte un po' meno. Però veramente noi siamo molto sereni. Eh sì, perché l'esigenza non è soltanto quella pratica di poter sapere che il proprio animale durante le ore di lavoro che ognuno di noi ha è comunque accudito e al sicuro, ma ci va sicuramente anche tanta fiducia nella persona a cui affidiamo il nostro animale. Sì, quello soprattutto, ma con lui poi è diventato un rapporto, cioè siamo una grande famiglia, quindi è bravissimo, è bravissimo. Ho preso un altro cane apposta perché, cioè Flavio è il number one, veramente. Cioè, voi non conoscete chi era Lucky prima di venire da Coccole Pet. Tu mi dicevi il terrore della via addirittura. Il terrore della via, il terrore, mi si formava il vuoto accanto quando uscivo con Lucky, veramente. E infatti sono ancora stupita del cambiamento che ho avuto, ma nell'arco di una settimana. E adesso c'è questo nuovo arrivo, una cucciola piccolina. Una cucciola di nove mesi, sì. Si chiama? Alissa E quindi vengono in pensione tutte e due all'asilo, tutte e due? Sì, sì, certo.